A nome anche di tutta la Commissione che aveva condiviso questo ragionamento siamo fortemente preoccupati della situazione dell'agricoltura in questo momento perché si avvicina velocemente il momento del raccolto, abbiamo pochissima gente che prima arrivava nel nostro paese a darci una mano soprattutto dall'est Europa che oggi sono tutti bloccati giustamente per il Covid perché in quei paesi il Covid è ancora come virulenza molto molto alto e qui non possiamo farci aiutare da amici, parenti, studenti, pensionati così come si faceva fino a un 15-20 anni fa quando c'era bisogno del famoso colpo di mano, cioè del colpo di mano per aiutarsi tra di noi perché dal punto di vista del regolamento del lavoro oggi non è più possibile farlo per motivi contrattuali. L'avevamo risolto grazie anche alla Regione Veneto, al Presidente Zaia, grazie anche ai governi precedenti erano stati adottati i voucher, con i voucher si poteva poi compensare giuridicamente e anche dal punto di vista proprio previdenziale perché il voucher prevede anche una forma previdenziale al suo interno, questi tipi di collaborazione poi il governo di centro-sinistra forse anche perché se ne era un po' abusato con i voucher aveva completamente abolito i voucher però comunque i voucher avevano risolto il problema, poi qualcuno ne aveva abusato. Nella lettera io avevo chiesto che venissero rientrodotti solo per l'agricoltura e solo per i due mesi la possibilità di usufruire appunto di questi voucher e la Ministra Benanova ha detto sì ok condivido perché effettivamente il problema c'è però non è di mia competenza, è di competenza del Ministro del Lavoro, della Catalfo e a lei girerò il problema. Io spero che glielo giri presto perché io credo se aspettiamo un altro po' dovremmo, come sempre, dovremmo arrangiarci. Così come stiamo facendo, se utilizziamo anche quei pochi soldi che l'Europa ci ha dato per continuare in forma assistenziale, assolutamente non riusciremo a venirne fuori da questa crisi perché o rifacciamo ripartire la vera anima produttiva di questo territorio, la vera anima produttiva dell'Italia che comunque poi genera risorse, genera ricchezza altrimenti non appena avremo consumato questi soldi poi effettivamente non sapremo più come fare.